signore e signori traders ed investitori buongiorno e benvenuti all'intraday club analisi contesto e premarket mercoledì 4 ottobre auguri a tutti coloro che si chiamano francesco anche oggi insieme ad analizzare i principali sottostanti americani per farsi trovare pronti al suono della campanella delle 15 e 30 come sempre partiamo con un recap di quella che è stata la seduta di ieri sia per quanto riguarda l'S&P e il Nasdaq come possiamo vedere siamo di nuovo in una fase di bassissima volatilità bassissimi scambi 835.9 mila scambi per l'S&P e 8 punti tra minimo e massimo andiamo a vedere la seduta seduta influenzata pesantemente sia dal nuovo raggiungimento dei massimi storici e sia anche un po di attesa per quelle che sono la flotta di dati ma di quello ne parleremo tra poco nonostante ciò nonostante questa lateralità che renda quasi impossibile tradare continua l'ascesa infinita dell'S&P che anche ieri dopo una prima ora in cui è andato oscillare a ridosso di quella che era la chiusura precedente ha avuto pian piano una lenta ma inesorabile risalita che lo ha portato a chiudere di nuovo sui massimi in area 33 oltre alle proiezioni della fascia pomeridiana abbiamo valutato anche quelle su fascia serale che consistevano in uno short a 32.50 e come potete vedere è stato veramente una bellissima indicazione che è stata possibile sul finire della fascia serale quindi questo è quello che è stato per l'S&P situazione analoga ma sempre con un po più di debolezza per il nostro Nasdaq guardate qua la volatilità abbiamo iniziato ad operarci noi nell'intra dei clave è precipitata 26 punti tra minimo e massimo e 206 mila scambi effettuati nonostante ciò come sempre sul Nasdaq andiamo a vederlo questa scarsa volatilità porta comunque delle possibilità di ingresso che ieri abbiamo sfruttato entrambe praticamente nella prima mezz'ora di mercato quindi è stata veramente una piacevole giornata e bei movimenti belle reazioni sulle aree psicologiche che ci ha permesso di effettuare ben due operazioni anche in questo caso non guardate tanto la parte del profitto ma quelli che sono gli orari operazioni che sono durate davvero pochissimi minuti andate entrambi al massimo gain salvo una sporcata di un tx per una questione di di slippage e continuiamo così detto questo chiudiamo la parentesi di ieri veniamo invece a quella che è la seduta di oggi vi ricordo che la cina è comunque sempre chiusa per tutta settimana per il bank holiday nonostante ciò un dato stamattina sul gbp ma è l'ultimo dei nostri pensieri perché come potete vedere due in quarto il primo dato sull'americano alle quattro un ulteriore dato che quindi andrà un po disturbare chi decide di approcciarsi 15 30 16 30 il petrolio in chiusura della della dell'ora di trading stasera parla draghi alle sette in quarto e alle nove in quarto parla la jelen quindi ci saranno ottime probabilità di un semaforo rosso e comunque di un mercato piuttosto nervoso quindi massima attenzione andiamo ad analizzare comunque come si è mosso partire dalla mezzanotte fino ad ora per quanto riguarda il nostro s&p quindi partiamo a una visione un pochettino più di macros microscopica con barre a un minuto mercato in leggera discesa dopo il massimo raggiunto in chiusura ma come potete vedere siamo sempre in un range di circa tre punti in leggero contesto negativo ad aprire proprio qua ridosso della dell'area 30 non ci aspettiamo grandi situazioni vedete che anche l'input del mercato europeo tra le 8 e 9 non ha portato assolutamente niente quindi tra oggi e poi venerdì avremo anche non far payroll quindi ci aspetta una chiusura di questa prima settimana piuttosto allineata salvo sorprese andiamo comunque ad analizzare quelle che potrebbero essere le proiezioni operative per tutti coloro che vogliono approcciarsi nella fascia pomeridiana quindi 15 30 16 30 ricordando sempre che tutte queste indicazioni sono scopo didattico non fatelo se non proprio per test sulla vostra piattaforma simulata allora siamo in un contesto leggermente negativo poco senso parlarne adesso visto i valori massimi in cui è compresso il titolo anzi se andiamo a vederlo magari anche da un punto di vista di più sul sul lungo termine vedete come la finestra si tra ieri oggi è davvero molto compressa tornando al nostro grafico ipotizziamo a questo punto al massimo oggi 10 punti tra minimo massimo ma potenzialmente anche meno quindi io andrei ad agire ancora solo su inversione e non su continuazione di trend a meno che dalle 15 35 in poi vedremo a discapito di quelle che sono queste analisi che vi ricordo sono fatte in diretta ancora prima che il mercato apra quindi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo starei sul 32 50 direi di arrotondare in un fattore un po più curioso 32 75 perché in modo tale che riusciamo andare ad abbracciare sia la soglia psicologica di 32 50 esattamente come ieri sera ma abbiamo supporto anche il prior close che sapete che non gli diamo mai sull'SMP una grande importanza ma ci sono tanti analisti tecnici che lo vanno ad utilizzare quindi è un buon baluardo anche per correggere il nostro tiro visto che sarà un'operazione da più 4 meno 4 a livello invece di ribilanciamento volumetrico io starei sul 27 e 50 a meno che si vede che il titolo proprio spinge le quotazioni a ribasso allora puntate eventualmente su un riequilibrio sulla soglia successiva ovvero quella dei 25 quindi 27 50 se vedete un andamento tipo quello che vedete adesso dalle 8 le 10 del mattino che scende pian piano allora si può valutare lì un riequilibrio se invece c'è una buona un buon movimento ribassista evitate l'appoggio su quell'area psicologica e concentratevi sulla successiva comunque d'area 25 a 32 50 sono comunque i 7 punti e mezzo che sono quelle che sono le prospettive di movimento di oggi di questo e di tanto altro e dei nostri possibili eventuali trade non so se riuscirò a farne oggi le faremo questa sera alle 19 come sempre in diretta nel nostro live tv vi ricordo che se volete oltre a seguire sulla nostra academy tutti i corsi teorici per capire al meglio quello che andiamo anche a dire all'interno del contesto premarket potete anche provarlo per 14 giorni adesso entro in modalità zen inizio a prepararmi per l'apertura ricordandoci che il sapere non è sufficiente dobbiamo applicare il volere non è sufficiente dobbiamo fare un saluto da stefano corvi e dei 3s di alfa for all